Musica Mercoledì 27 luglio, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Siete come sempre e siete in tanti quindi vi ringraziamo per questo lo faccio io a nome della redazione, in tanti tutte le mattine a seguire la nostra rassegna stampa un quarto d'ora per sfogliare i giornali e dare un'occhiata ai titoli delle notizie più importanti cominciamo però come sempre dal Santo del Giorno vediamo che Santo ricorda oggi la Chiesa Cattolica oggi ricorda San Simeone Stilita è un Santo che tra l'altro ha avuto un omonimo qualche anno dopo visse un secolo dopo di lui quindi veniva chiamato il vecchio proprio per differenziarsi da quello che è venuto un secolo dopo nacque nel 389, il confine tra Cilicia e Siria morì invece nel 459 all'età di circa 70 anni era tanta la fama di questo campione dell'ascesi che diversi gruppi cercarono di trafugarne la salma per venerarla il sole salto alle 5 e 51 e tramonterà vedete cominciano ad accorciarsi i giorni ahimè alle 20 e 38 il tempo di oggi lo vediamo subito con la grafica della protezione civile delle Marche avremo un cielo sereno poco nuvoloso con attività cumuliforme a partire dalla tarda mattinata sui rilievi dell'Appennino durante le ore centrali della giornata avremo rovescio temporale sparsi solo limitatamente alle zone interne però sapete come dico spesso quando succedono questi temporali nell'entroterra anche vedete abbastanza importanti non è difficile che poi qualche cosa arrivi fin verso la costa non dovrebbe essere così ma insomma col tempo non si sa mai le temperature sono in lieve aumento per domani giovedì 28 cielo parzialmente nuvoloso ancora tempo brutto vedete dalla tarda mattinata rovescio temporale sparsi nelle zone interne ed occasionali quindi sulla costa le temperature sono in diminuzione nei valori massimi e stazionari invece in quelli minime venerdì 29 di luglio cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento i venti sono a regime di brezza con intensità massima di vento moderato la parziale ripresa dell'alta pressione garantirà un tempo stabile per il fine settimana comprobabile garbino quindi vento caldo per il pomeriggio di domenica speriamo di non boccheggiare allora andiamo adesso subito a vedere i giornali cominciamo dal Corriere Adriatico la pagina principale la prima pagina dell'edizione di Pesaro è tutto per il porto il nuovo porto di Pesaro appunto dove sbarca il lusso in arrivo i super yacht un accordo con il cantiere navale Rossini con oltre 15 milioni di investimento a centropagine invece la notizia di cronaca con la sentenza del giudice del Tribunale di Minore che ha condannato a 18 anni la fidanzatina diabolica la minorenne che vedete in questa fotografia che insieme al fidanzato uccise la mamma e il papà questa è la notizia in primo piano entriamo adesso nella seconda pagina invece del Corriere Adriatico dove c'è la storia di Roberta un medico pesarese in prima linea per lei tutta pagina una foto gigante la pediatra pesarese è in missione per medici senza frontiere e racconta dall'ebola allo sterminio di Boko Haram tutto quello che ha vissuto tutto quello che sta vivendo dopo la laurea in medicina all'Università di Bologna questa sua esperienza all'interno di questa importante associazione umanitaria la pagina di Fano invece ancora il dibattito sulla musica musica ad alto volume tra chi vorrebbe la musica divertirsi almeno durante le serate estive tra chi invece vorrebbe riposare e vuol dormire come se fosse il resto dell'anno come se fosse inverno Bye Bye Fano non è qui la festa questo è il titolo è saltato lo ricordiamo ancora una volta il tributo ai Pink Floyd domenica sera allo Sport Park siamo in zona Sassonia il settore dell'intrattenimento disapprova il pugno duro del comune di Fano in una città turistica a luglio è consigliabile più tolleranza coinvolti gruppi rock di rilievo nazionale è passata la stagione della trazione dei giovani un operatore lancia l'hashtag torna Alberto questo è l'hashtag che è stato lanciato riferendosi chiaramente all'ex Assessore Alberto Santorelli a suo dire ritenuto più adatto nel rapportarsi con i privati per l'organizzazione di eventi e questo lo dice Federico Arceci capo area per la zona Marche di Emilia Romagna di una nota radio a livello nazionale gli spettacoli e qui adesso cominciamo con le proposte secondo me quelle un po' più così fantasiose gli spettacoli all'aeroporto o a Tre Ponti la Cecchetelli l'assessore che presiede la commissione di vigilanza dice valutiamo d'eroghe fino a 90 decibel però Santorelli l'ex Assessore sbaglia sbaglia nel tirare in ballo la commissione di vigilanza che in realtà in questi casi nel merito delle deroghe ai decibel non può entrare nel merito l'altra pagina acqua razionata è vietato lavorare lavare scusate auto riempire piscine in casa è la classica ordinanza che viene fuori più o meno a metà estate e che tende a garantire insomma le riserve idriche quindi si sa durante l'estate piove poco quindi l'acqua diminuisce le riserve diminuiscono e quindi non si può annaffiare o lavare l'automobile insomma tutta una serie di cose oppure si può fare ma solo nei giorni di lunedì e giovedì dalle 22 di sera quindi dalle 22 alle 24 a mezzanotte la misura sino alla fine di settembre per tutelare appunto come dicevo le riserve idriche quindi giardini e orti si possono innaffiare solo lo ricordiamo il lunedì e giovedì dalle 10 di sera a mezzanotte 10 di sera a mezzanotte il sempre a proposito di acqua però questa volta per bere e non solo per bere ma anche per gli usi quelli di tutti i giorni il forum per i beni comuni critica l'ASET che ha staccato di fatto l'acqua ad un invalido lo ricordate è una storia che ha tirato fuori il Corriere Adriatico qualche giorno fa insomma dice insomma ASET si permette di staccare l'acqua ad un disabile che non ha pagato che consegue 2 milioni e mezzo di utili nel 2015 insomma però l'altra notizia invece del Corriere Adriatico è su una notizia di cronaca che vi abbiamo dato anche ieri sera nel nostro telegiornale una cagnolina che si è messa a baiare quando ha visto i ladri dentro casa o comunque due sconosciuti certamente non sapeva che erano ladri ma comunque due sconosciuti che non erano i padroncini ha cominciato a baiare questi si sono un po' indispettiti prima di scappare hanno preso questa cagnolina la vedete in braccio a Piero Valori con la compagna insomma hanno preso questa cagnolina l'hanno buttata dal primo piano letteralmente dal terrazzo una roba una crudeltà che si è compiuta un po' così gratuitamente hanno preso quest'animale che ha riportato ferite al mento e alla zampa ora si riprenderà con l'amore della sua famiglia scrive il giornale però ecco sta di fatto che però ha messo in fuga i ladri quindi è stata è stata brava insomma la sosta selvaggia invece sotto costituisce un pericolo il comandante Giorgio Fuligno comandante della Polizia Municipale di Fano replica alle proteste proteste che anche qui arrivano puntuali come il Ferragosto tutte le estati perché c'è l'assenza cronica dei parcheggi abbiamo le spiagge diamo le concessioni diamo tutto però poi mancano di fatto i servizi come appunto i parcheggi o i bus navetta ma chi li prende questi bus navetta non li prende nessuno quindi siamo abituati ad andare a fare la spesa con il supermercato sotto casa e fare 10 metri con l'automobile siamo stati abituati così cura il verde questa è una storia che davvero fa ridere ma dico ridere per non piangere guardate questo signore eccolo qua si chiama Valerio Biagioni e mostra al fotografo del giornale la sua multa il verbale il verbale perché cosa? perché ha parcheggiato male? perché era in divieto? perché? no semplicemente perché si è preso cura del del giardino pubblico di Cucurano dove lui abita da un sacco di tempo lo ha fatto per una vita grazie a lui anche i giochi hanno avuto la manutenzione che serviva quindi si sono evitate rotture e quant'altro insomma cura il verde da 30 anni però il comune ora lo multa l'incredibile storia di questa persona trattata da delinquente scrive il quotidiano si è sempre occupato del giardino attivo alla scuola dove ora sono tornate invece carte ed erbacce perché giustamente adesso cosa fa questo signore dice io non tocco più un filo d'erba perché ci deve pensare il comune e quindi io me ne sto buono però quali sono le conseguenze che per esempio l'altalena si è rotta e un bimbo si è fatto male al volontariato solidarietà di Fano solidale questa è la notizia è una notizia che ci fa capire esattamente il perché l'Italia stia andando praticamente a rotoli per questo motivo qua e questo è un dato di fatto andiamo sulla pagina della Valle del Cesano la regione smantella l'ospedale chiesti primario e pronto soccorso ordine del giorno di Pergola nel cuore in polemica con l'opposizione che presenta emendamenti sotto invece da Fratterosa strada da incubo metà carreggiata e proibitiva a Fratterosa la provinciale in condizioni precarie al posto di rompere le scatole ai pensionati che si danno da fare e lo fanno con amore guardate mettete a posto queste strade guardate che roba se andate nell'entroterra e adesso di turisti che anche in questi giorni ne approfittano per andare a visitare Fratterosa ma così come tanti altri piccoli paesi meravigliosi che abbiamo nell'entroterra sono costretti a passare per queste strade qua e io non oso pensare a quello che si diranno dentro la macchina mentre percorrono queste strade qualcuno probabilmente dirà abbiamo pagato la vacanza per venire dove? in Siria in guerra che cos'è sta roba? vedete strade che franano e non vengono sistemate ormai da anni il turismo il turismo si valorizza sui pedali pianificazione congiunta al via protocollo d'intesa Traffano Senigallia Mondolfo pista ciclabile al primo punto il tratto in questione si estende per 30 km ma bisognerà accedere ai fondi comunitari allora qui viene dopo aver visto quella pagina e quella fotografia e aver letto la pagina dopo viene da chiedersi ma di cosa stiamo parlando cioè stiamo chiedendo fondi comunitari per 30 km di pista ciclabile e poi invece abbiamo strade come quella che abbiamo visto poco fa che collassano che vanno non lo so mi sembra siamo tutti impazziti va bene comunque Senigallia pienone per piazza Garibaldi serata con manifestazioni e proteste guardate che bella immagine invece ci propone Senigallia è una città in crescita anche questa insieme a Pesaro una città che sta facendo cose straordinarie e poi tra qualche giorno inizierà addirittura un summer jamborì sarebbe interessante andare a vedere con uno strumento i decibel a quanto suonano le orchestre le tante infinite orchestre che suonano orchestrine orchestrone che suoneranno a Senigallia stare lì con lo strumento e vedere se stanno a 70 65 decibel insomma tutte queste vabbè comunque Senigallia che sta facendo cose straordinarie effetti speciali con colonna sonora affidata alla banda della polizia dello stato abbiamo detto che ieri è stata inaugurata la nuova piazza appunto Garibaldi e poi e poi il resto del Carlino il resto del Carlino che apre con il Paglio dei Braceri il Paglio dei Braceri è una manifestazione che è nata così dal nulla una manifestazione che ha subito conquistato il cuore di tanti pesaresi ma soprattutto ha riattivato l'orgoglio di appartenenza al proprio quartiere cosa che anche noi a Fano avevamo grazie alla Fano dei Cesare ma noi invece abbiamo pensato bene di eliminarli circoscrizioni erano troppo belle via le circoscrizioni via i quartieri ma chi se ne frega e quindi abbiamo cancellato l'unica forse manifestazione che dopo il Carnevale poteva davvero caratterizzare l'estate fanese da oggi comunque prende il via a Pesaro questo palio che coinvolge tutti i quartieri della città domenica c'è la finale in gara 17 contrade con tre new entry il sindaco Ricci dice questo è il nostro evento simbolo e giustamente si guadagna anche la prima pagina del giornale andiamo sulla pagina di Fano la pagina di Fano invece del resto del carino racconta anche qui la storia di questo pensionato che è stato multato per il suo lavoro gratuito punito per aver tenuto in ordine il verde pubblico per 40 anni un pensionato di Cucurano finisce nel milione del comune guardate dopo che ha incrociato le braccia giustamente perché insomma prendere una multa da 500 euro che poi è stata ridotta a 100 e qualche cosa che poi gli è stata pagata da un'associazione la Mimosa perché giustamente no che fai guardate come è ridotto il parco vedete e così faranno giocare immagino i bambini in mezzo alla selva giocheranno meglio a nascondino immagino poi d'arsena facciata poi bisogna trovarli anche lì in mezzo i bambini bisogna stare attenti a ritrovarli d'arsena facciata rimessa a nuova dai marinai locali questa è la la fotografia della nuova d'arsena anche qui per fortuna almeno dopo tanti anni di di degrado un angolo di città rimesso a nuovo poi la mostra di David Bowie ha una grafica tutta fanese è la grafica di Fabio Barnesi il design di Fabio Barnesi responsabile delle relazioni di comunica siamo molto orgogliosi ha detto Barnesi di questo incarico prestigioso approdata da poco in Italia dopo l'enorme successo mondiale anche qui il racconto del furto andato male per i ladri che però gettano la cagnolina dal terrazzo una vicenda accaduta a Sant'Orso in casa di Piero Valori i padroni dicono l'abbiamo ritrovata e ferita in un parco mentre a Fano 5 Stelle si dimette Roberta Ansuini subentra Fontana per problemi di lavoro e quindi ha preferito lasciare il posto al collega andiamo per chiudere sull'altra pagina pagina 16 del resto del Carlino Daniela una donna con la stecca sono campionessa italiana di biliardo ma nessuno dice Daniela Romiti di 42 anni fanese nessuno se ne è accorto gareggia con i colori di Ancona dove si allena 3-4 volte la settimana ho imparato perché ci giocava il mio fidanzato dalla noia alla folgorazione per questo sport e allora questa era l'ultima anzi la penultima pagina perché anche oggi approfittando del quotidiano del resto del Carlino chiudiamo con questa bella immagine di tante fotografie tanti ragazzi tanti bei volti la nostra speranza il nostro futuro Mamiani da record 68 diplomati con il massimo dei voti un liceo che si conferma davvero eccellente prima di salutarvi vi ricordo che c'è il viaggio in programma del Papa di Papa Francesco oggi inizia ufficialmente la giornata mondiale della gioventù arriverà il Papa all'aeroporto di in Polonia alle 16 più o meno quindi avremo un collegamento alle 16 un primo collegamento con la cerimonia di accoglienza poi a seguire subito dopo altri collegamenti avremo dal cortile d'onore l'incontro con le autorità la società civile il corpo diplomatico e poi la visita intorno ai 5.30 5.40 al Presidente della Repubblica questi sono gli appuntamenti del del centro televisivo Vaticano il cui segnale ripeteremo chiaramente anche noi come abbiamo sempre fatto da dieci anni a questa parte dunque la diretta del Papa la potrete seguire anche senza troppi commenti sul nostro sul nostro canale il canale 17 poi tenendo il canale 17